Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In direzione Firenze, tra Empoli e Ginestra. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11, tutte le info sui nostri canali social. Ci sono poi rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!